Che che manca? Chi chiamiamo qua? L'ultima categoria delle donne, se sta qua, mettiamo tutto a posto, ok? Abbiamo l'elenco, qua. Germana Babini, Maria Antonietta Danese, Renata Sgays, ciao. Renata Sgays qua, Maria Eugenia Tosetto, qua gentilmente. Poi salutiamo anche Milena Rosa, Marzia Tallini, Anna Maria Marcuzzi, Maria Olivia Crosio e Norina Marcolina, che erano della categoria ultima. Chi ho chiamato se viene qua? Claudio, ci pensa a lui. Ascoltate, vi ricordo, nel 2016 il ponte del 25 aprile sarà la diciannovesima edizione. E intanto prendete appunto il prossimo anno, nel 2016, il ponte del 25 aprile e non più primo maggio, perché il 25 aprile cascherà di lunedì. E faremo venerdì, sabato, domenica e lunedì. Con gli arrivi di venerdì, tre notti, venerdì, sabato e domenica notte, domenica mattina l'ultima tappa e andate via. Tre notti con quattro giorni. Sempre tre tappe, ok? Se vi è piaciuto, segnatevela e noi vi aspettiamo volentieri. Di nuovo grazie e continuiamo con l'ultima premiazione. Ok, premiamo questo ponte, un arrivederci a chi sta tornando a casa, chi è arrivare qua per pranzo, un buon pranzo. E' stato un bel giro, il tempo ha retto, voi siete stati bravissimi e devo dire anche molto collaborativi, perché non è mai facile organizzare un giro a tappe. Come ha detto Claudio, l'appuntamento è per il 2016. Da parte nostra, sì.